zitti zitti c'è gente dentro il legno qui era in questo in quello dopo lo prima sono in due sono in questo qua in questo che abbiamo passato a destra in questo che abbiamo passato ci hanno sentito mi sa passare si sono dentro all'ultra questo andate piano da dove t'ha fatto esplosa la nade l'ho visto io sì sì l'ho vista anch'io però lui l'ha fatto da lì eccolo laggiù mi chiama ma scoppiato non ma neanche